È stata colpa tua, di Chiara. Matteo covava una rabbia indicibile. L'orologio biologico aveva una scadenza e voleva rispettarla. Si rese conto che lei era troppo determinata, sicura di sé, e la prospettiva della maternità la vedeva ancora distante. Non si faceva sottomettere. Da uomo doveva dimostrare a suo padre che era capace di portare avanti il cognome. Al diavolo se l'estinto paterno era latente. Si sentì un fallito. La posizione lavorativa era frutto di una raccomandazione venuta dieci anni prima. Il diploma, faticosamente conseguito, e l'università fuori discussione, disse a Martina di aver interrotto gli studi dopo un anno, ma era una menzogna. Della sua vita aveva costruito ben poco. «Amore mio, non era mia intenzione nervosirti», disse, mentre un nodole si bloccò in gola e dai suoi occhi scese una lacrima. Aprì la portiera, fissò Matteo negli occhi. Il suo cuore era a pezzi, e lui visibilmente nervoso. Non riuscì a dire nulla, scese dall'auto e ringraziò il cielo di essere giunta a casa. Salva.